Un buon punto contro questo Varese ad Atalanta aggressiva e sempre in partita, ritmi altissimi. Sì, questo mi fa molto piacere perché per noi oggi era un po' una prova del 9 dal punto di vista fisico e direi che l'abbiamo superato brillantemente, anzi secondo me siamo stati superiori al Varese da questo punto di vista. Abbiamo fatto una grande partita, è mancato solo il gol, l'abbiamo sfiorato in qualche circostanza, non era facile perché il Varese è una squadra che fa del reparto difensivo, della fase difensiva la sua cosa migliore. Però ci abbiamo provato, non ci siamo tirati indietro, è andata così, ci prendiamo il punto, il campo sicuramente non ci aiuta, va detto questo chi ancora una volta, però va bene, andiamo avanti, la squadra sta bene, sta in salute, gli faccio complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una grande partita. Un buon pareggio quello di oggi? In casa è mai un buon pareggio, però se si vede la partita, era una partita molto difficile, hanno fatto bene, hanno lottato, però penso anche noi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo lottato molto bene e forse abbiamo anche meritato di più di un punto. Andrea Consigli, sei stato impegnato una sola volta, però fondamentale. Sì, per fortuna siamo riusciti a non prendere gol, è stata una bella parata. Peccato non aver vinto perché avremmo dato una svolta al campionato, però l'importante è stato portare a casa meno un punto, ho visto anche gli altri risultati. Peccato perché abbiamo fatto noi la partita, non siamo stati molto pericolosi, tranne con Cristiano, però speravo di vincere per dare questo stacco definitivo alle inseguitrici. Sicuramente si poteva prendere il buon, però lo considero un buon punto contro una squadra che è venuta a Bergamo a fare la partita, sembrava degli assatanati, credo che noi sul piano del gioco, sul piano dell'intensità non avevamo niente da perdere, soprattutto non avevamo niente da tenere nei confronti. Abbiamo fatto una partita, credo, buonissima, ci è mancato solo il gol. L'ha ricordato lei e Stefano Colantuono poco fa, 90 minuti di intensità altissima. E' chiaro che quando vedi una squadra giocare così non puoi rimproverare niente, credo che sia stata una prestazione da otto, come ripeto non era facile giocare contro una squadra che ti marca continuamente, che ti pressa e quindi direi che comunque abbiamo avuto un'occasione con Doni nel finale, che purtroppo non è andata e quindi accettiamo questo pareggio consapevoli della prestazione e sicuramente se andiamo avanti così l'obiettivo riusciremo a ottenere.